E' la terza auto più venduta d'Italia, ma la Lancia Ypsilon passa al trucco, seppure con molta moderazione. Ecco dunque qualche ritocco alla mascherina e alla calandra, e il sistema di infotainment Uconnect, di serie dall'allestimento Gold, forte di uno schermo touch da 5 pollici e che si interfaccia con smartphone, Apple e Android, oltre ad essere dotato di ingressi USB, AUX e Bluetooth audio streaming. Altra novità sono i motori, ora tutti omologati Euro 6. Da un'auto tutta casa ufficio supermercato, ci si aspetta prima di tutto comfort. E' la Ypsilon non tradisce, morbida di assetto e dotata di pneumatici soft, la Lancia attutisce le sconnessioni come poche altre auto. Quanto ai motori, il 1.2 da 69 CV continua a essere preferibile per fluidità di funzionamento al Twin Air da 85, che è sì più brillante ma è fin troppo ruvido e rumoroso, a caso del fatto che ha solo i due cilindri. Di serie per tutte ci sono 4 airbag, controllo di stabilità con il holder, sistema di monitoraggio della pressione nei pneumatici, climatizzatore manuale e sedile di guida regolabile in altezza. Grazie a tutti.